Senatore Razzi, qualche giorno fa in Consiglio regionale è stata presentata una delibera poi ritirata che prevedeva l'anticipo del TFR per tutti i consiglieri regionali. Lei qualche anno fa subì delle critiche forti per una proposta analoga che riguardava i parlamentari. Mi ci viene da ridere perché, come ho detto io, fa gola a tutti. È chiaro che questi signori ne hanno detto di tutti i colori quando io ho detto questo perché tutti hanno interesse di prendere il vitalizio. Poi, magari detto da Razzi, io sono stato molto schietto a dirlo, io sono uno abituato a dire la verità e come diceva la canzone della Caselli, la verità mi fa male, lo so, però io sono abituato così e credo che i cittadini questo apprezzeranno su quello che io dico, la verità. Parlando ancora di politica nazionale, Senatore, in queste ultime settimane c'è stata una grande rimonta in termini di voti della Lega, del suo amico Matteo Salvini. Qualcuno dice che il viaggio fatto in Corea del Nord qualche mese fa sta portando bene al leader della Lega. Ma sicuramente, guarda io, diciamo scherzosamente, al presidente della Repubblica della Corea del Nord, Kim Hyun-nam, avevo detto, ho presentato il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, dice che gestisce il 10% e guarda caso l'ha superato. Si vede che la Corea del Nord porta fortuna. Però questa Lega potrebbe a questo punto insidiare anche Forza Italia in termini di voti, potrebbe diventare il primo partito di centrodestra? Questo non credo. Io spero che noi, cambiando un po' di personaggi, potremmo ritornare quello che siamo, diciamo, a superare il 20%. In chiave abruzzese lei resta critico per quanto riguarda la leadership di Forza Italia oppure ha cambiato idea? Io sono sempre dell'idea che se una macchina non va bisogna ripararlo e poi riparato sicuramente la macchina cammina.